Attenzione, non date informazioni né dati relativi alla vostra bolletta del gas a chi non conoscete. Fassi i contratti in agguato a Cittadella, secondo l'allarme lanciato sui social da una cittadina che in mattinata si è imbattuto in un venditore porta a porta che si è presentato come inviato di una notte azienda fornitrice di gas. La persona sta chiedendo codici precisi e avrebbe risposto in modo sgarbato a ulteriori richieste di informazione. In questo settore le truffe sono sempre dietro l'angolo e in un batter d'occhio si può firmare un contratto senza saperlo.